Salvo Provenzano è ufficialmente il nuovo titolare dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Aquila, l'USRA, e dopo la sottoscrizione del contratto, da oggi è pienamente operativo nella struttura di cui ha già ricoperto l'incarico di responsabile dell'area tecnica. L'Ufficio Speciale ricopre un ruolo determinante nei processi di rinascita dei territori colpiti dal sisma e deve recuperare il ritmo e l'efficienza che l'hanno a lungo contraddistinto, ha spiegato il Sindaco Pierluigi Biondi, che ha fatto anche al neotitolare dell'USRA Provenzano i migliori auguri di buon lavoro. Ho chiesto a Provenzano, ha detto Biondi, di dare nuovo slancio e impulso nella velocizzazione delle pratiche, semplificazione delle procedure e riequilibrio tra la fase istruttoria e i controlli nei cantieri. Affronto questo nuovo incarico con grande senso di responsabilità, motivazione ed entusiasmo, ha detto consapevole della complessità della missione che sta assolvendo l'Ufficio Speciale, è fiducioso di avere a disposizione una squadra dalle elevate competenze, ha detto Provenzano. L'Ufficio è a disposizione per fornire ogni possibile supporto per portare a compimento il processo di ricostruzione della città che vada anche oltre quella fisica.